L'argomento è di assoluto interesse per una banca come quella che io rappresento, una banca territoriale, che è la banca di credito popolare ed ovviamente noi guardiamo al territorio, allo sviluppo e quindi a quello che può essere l'apporto di una banca come la mia in termini proprio di input e soprattutto driver di crescita. Ponendoci in questo ruolo e ovviamente avendo ben chiaro che la presenza fisica oggi per una banca è fondamentale perché c'è ancora bisogno di consulenza assolutamente guardando a quello che è il panorama di imprese di dimensioni medio-piccole non tutto può essere soprattutto sostituito dalla logica tecnologica e quindi banca di credito popolare si pone questo obiettivo di essere molto più vicino alle imprese, stiamo per lanciare un centro imprese quindi sul territorio che possa intercettare e soddisfare i bisogni delle imprese, in più abbiamo adottato una serie di misure proprio per sostenere, mitigando anche il rischio, quelli che sono i progetti di innovazione e di investimento delle imprese. Il nostro piano industriale è molto ambizioso, nei tre anni prevede un'erogazione di 900 milioni rivolto appunto all'economia reale, basti dire che a tutto maggio abbiamo già erogato 130 milioni di euro alle imprese con focus, driver, export e soprattutto turismo rispetto al quale siamo molto inseriti e in ultimo questa banca ha il 25% delle sue presenze in zone turistiche, a vocazione turistica della regione.